arte di cichi ciao bambini iniziamo a disegnare una piccola mucca carina iniziamo con una forma ovale per la faccia una linea curva e due occhi bene, è stato facile disegna le pupille e riempile ora disegna delle linee curve per le sue macchie sopracciglia e le corna e delle forme a foglia per le orecchie finisci di disegnare la faccia con il naso e un bel sorriso ora disegniamo il corpo iniziando dalle gambe davanti e poi da quelle dietro ora disegna gli zoccoli benissimo! terminiamo con delle macchie disegna un'ape carina che è la migliore amica della nostra mucca iniziamo a definire i bordi e ora la parte divertente coloriamo usiamo un bel giallo acceso per la faccia usiamo un bel giallo wow è già bellissima ora coloriamo il corpo rimani nei bordi colorare è così bello aggiungiamo dell'arancione alle orecchie e anche sul resto della faccia non è la mucca più carina di sempre? con un arancione più chiaro colora le macchie proprio così e del marrone per gli zoccoli alla fine un bel azzurro per le corna e abbiamo finito ecco bambini la nostra piccola mucca iscriviti per vedere altri video arte di Ciki